Trasferta di Serie C Silver che inevitabilmente nasconde insidie, quella che attende domani il baschetteggiare. Ad ospitare i gialloblu sarà infatti la fortitudo agrigento. Al Palamoncada mancherà ancora Gabriele Vitale, ma per il resto tutti arruolabili per Cocci, Ignazio e D'Angelo. La volontà è quella di ripartire subito con i due punti, ma di fronte ci sarà un'armata di giovani dalle bellissime speranze. Tutti o quasi under nel roster in undicesima posizione di Cocci Giovannotto, con particolare attenzione all'ala 19enne Luca Savoca. Sfida facile sulla carta per le ragazze dell'Amici del Volley, sabato 18 alle ore 19, gara in trasferta per le giarresi sul campo apparentemente tranquillo del fratres Mister Bianco. Serve una vittoria per non concedere punti all'anino romano, a pari punti con le giarresi in testa alla classifica del girone B di serie C femminile. Anche New Image e Papiro Volley in trasferta questo weekend, entrambe giocano domenica 19. Alle 18.30 la New Image scende in campo sul parquet della palestra del Gerratana in quel di Ragusa. Alle 18 invece fischio d'inizio al Ferraris 10 Reale per l'incontro Aquilia-Ciriale-Papiro Volley.